amici avventurieri bentornati sul canale ditelo do io il dungeon allora io sono lorenzo e sono il vostro dungeon master vintage oggi di cosa voglio parlarvi oggi voglio parlarvi dell'attacco furtivo ebbene sì l'attacco furtivo del ladro sì quello lì è un attacco molto famoso e su cui si possono dire molte cose e molte cose si possono scoprire allora immagino che magari gli avventurieri più veterani sappiano già tutto della dell'attacco furtivo e quindi questo video magari può essere rivolto invece a chi si è approcciato per la prima volta a dnd negli ultimi tempi anche magari grazie al film allora siete pronti allora 3 2 1 attacco furtivo allora se mi seguite da un po sapete che in questo momento arriva naturalmente magia 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 e cambiamo gli occhiali allora l'attacco furtivo è uno speciale attacco del ladro che è descritto a pagina 78 del manuale del giocatore in italiano io ho questa versione qui asmo d e penso che sia uguale anche per la nuova versione pubblicata in italia della wizard in ogni caso cercate dove è descritta la classe del ladro e andate in cerca del paragrafo dell'attacco furtivo allora l'attacco furtivo è uno speciale attacco dei ladri che sfrutta le distrazioni degli avversari no i punti deboli degli avversari e con un po una volta veniva chiamato l'attacco alle spalle in realtà non ha senso che sia solo un attacco alle spalle diciamo che proprio un attacco speciale del ladro allora questo attacco segue delle precise regole e adesso andiamo a affrontarlo capitoletto per capitoletto cercando di capire le cose importanti da sapere la prima cosa da sapere è che di attacchi furtivi ne potete effettuare uno a turno allora attenzione uno a turno uno dice ma mannaggia io gioco il ladro e non ho mai fatto uno a turno o sì ne faccio uno quando è il mio turno ma posso farlo anche quando è il turno degli altri ebbene sì allora funziona così il round di combattimento sappiamo che dura 6 secondi e questo round di combattimento è composto dai turni di tutti i personaggi e naturalmente anche delle creature avversarie quando è il momento del ladro il ladro anche se dovesse essere che ne so una build multiclasse o dovesse essere anche un ladro che combatte con due armi quindi può fare due attacchi in realtà il ladro ne può fare solo uno di questi attacchi furtivo quindi sia che ne abbia uno sia che abbia più attacchi il ladro può fare un solo attacco furtivo solitamente conviene fare il primo che colpisce se ha più attacchi altrimenti è l'unico colpo che effettua allora il ladro ne può fare uno a turno quindi durante il suo turno se colpisce quell'attacco è furtivo e poi vediamo che cosa capita fa maggiori danni sostanzialmente però il ladro potrebbe fare un attacco furtivo anche durante i turni delle altre creature ad esempio quando il ladro può fare un secondo attacco potrebbe fare un secondo attacco nel turno di un'altra creatura se una creatura si allontana da lui e e lì concede attacco di opportunità in quel caso lì il ladro si colpisce con la creatura che esce dalla sua portata quindi diciamo che il ladro è finito in mischia o comunque l'abbiamo configurato come se fosse un combattente di mischia in quel caso lì la creatura si allontana e poi si seguono le leggi e le regole dell'attacco di opportunità e il ladro ha così la possibilità sfruttando la sua azione di reazione di effettuare un secondo furtivo ma è questo qui non è la sola possibilità che al ladro o meglio ci sono delle sottoclassi che danno ad esempio il ladro la possibilità di fare delle azioni aggiuntive poi più avanti nel video andiamo a vedere scusate non delle azioni aggiuntive di effettuare dei turni aggiuntivi più avanti nel video nel poi ne parliamo per ora rimaniamo intanto in questo secondo attacco che il ladro può fare con l'azione di reazione quindi può essere un attacco di opportunità per effettuare il secondo furtivo oppure quando ad esempio c'è il guerriero maestro di battaglia che ha una manovra che si chiama colpo del comandante se avete presente è una mossa un po complessa nel senso che il guerriero deve rinunciare ad uno dei suoi attacchi in più deve sfruttare la sua azione bonus per permettere ad un altro leato che naturalmente che lui sia in grado di vedere di fare un altro attacco l'alleato quindi deve usare la sua azione di reazione per fare il suo attacco in questo caso qua se il guerriero maestro di battaglia grazie al colpo del comandante dice al ladro di sfruttare la sua reazione per effettuare un attacco il ladro se possiede ancora l'azione di reazione potrebbe fare così un suo secondo furtivo ecco trovato quindi un sistema ad esempio che potrebbe essere molto facile da sfruttare in gruppo se avete un guerriero maestro a battaglia prendetevi il colpo del comandante perché potete far attaccare una seconda volta o il paladino o il ladro che sappiamo che sono due assalitori molto potenti nella quinta edizione di dendi allora per adesso intanto ci fermiamo qui per quanto riguarda penso che avete capito il concetto un attacco a turno anche se possiede un multi attacco e in ogni caso il turno è il suo il turno del ladro ma può essere anche il turno di un'altra creatura di un altro alleato l'importante è avere l'azione di reazione disponibile che armi può usare un ladro per effettuare un attacco furtivo ad esempio un ladro monaco con un colpo senza armi può effettuare un attacco furtivo allora la regola qui è abbastanza precisa e dice solo con armi a distanza o armi accurate va bene ora andiamo a vedere quelle che sono le armi accurate per le armi accurate solitamente questa è una proprietà che va sempre data che è sempre stata data alle armi da mischia quindi le armi accurate sono armi che si possono utilizzare sia con il punteggio forza ma anche con il punteggio di destrezza le uniche armi accurate che sono presenti nel manuale del giocatore sono il pugnale che è un'arma formidabile la frusta un'altra arma formidabile la scimitarra la spada corta e lo stocco tra queste armi soltanto il pugnale un'arma semplice le altre invece sono armi marziali il colpo senza armi non è un'arma accurata va bene e quindi di conseguenza non può essere utilizzato per attaccare diciamo effettuare un furtivo così come nemmeno le armi improvvisate che ne so rompo una sedia e utilizzo un pezzo della sedia colpisco qualcuno quello non è un attacco furtivo poiché non sono armi accurate invece tutte le armi a distanza sono permesse però anche qui faccio un appunto la rete non causa danni e di conseguenza non causa nemmeno un attacco furtivo va bene quindi non è che se tirate una rete strozzate uno gli fatti i danni di un attacco furtivo potete usare la cerbotana se volete potete usare che ne so l'arco corto l'arco lungo la balestra pesante la balestra a mano la balestra leggera la fionda non so se ne ho dimenticato qualcun altro va bene ecco quindi questo intanto penso che sia chiaro ed ora veniamo invece alla terza la terza caratteristica stava già partendo la papera l'ho fermata forse in tempo allora abbiamo capito che dobbiamo avere un'arma a distanza o accurata d'accordo per arma a distanza si intendono proprio le armi a distanza e non che ne so una lancia che può essere lanciata quella è un'arma da lancio un'arma da mischia che può essere lanciato d'accordo invece si parla proprio di armi a distanza pure armi accurate come avevamo detto prima la lista in piccola non si può sbagliare naturalmente se ne può fare soltanto uno a turno anche se è il turno di un avversario l'importante è che si verificano certe condizioni non è che uno solo può inventare così ed ecco invece il terzo prerequisito diciamo affinché sia un attacco furtivo bisogna possedere vantaggio al tiro per colpire oppure l'avversario deve essere adiacente ad un alleato quindi in un certo senso è come se avesse una sorta di distrazione perché è impegnato in mischia con un vostro alleato va bene ora fate attenzione che se un vostro alleato è in mischia con un avversario voi non avete automaticamente vantaggio al tiro per colpire non confondete queste cose ci sono delle situazioni che potrebbero far sì che voi avete vantaggio però quello è un altro paio di maniche allora innanzitutto se avete vantaggio l'attacco se colpisce è sempre furtivo e quindi questa qui è una condizione che dovreste chiedere ai vostri alleati fate in modo di avere sempre vantaggio altrimenti cercate di mettervi voi nella possibilità nella condizione di avere vantaggio il tiro per colpire così siete sicuri che è sempre furtivo se invece purtroppo non avete vantaggio ma comunque effettuate un tiro per colpire normale fate in modo di colpire una creatura che è in mischia con un vostro alleato va bene in questo caso quindi se colpite l'attacco è furtivo attenzione si parla di furtivo non di critico quello è tutto un altro discorso quindi non confondiamo i termini ecco da ricordarsi una cosa che se avete svantaggio al tiro per colpire anche se l'avversario è in mischia con un vostro alleato voi non farete mai il furtivo quindi con svantaggio niente ad esempio per provate un po pensare avete in gruppo un barbaro il barbaro inizia un'azione di lotta e butta a terra prono l'avversario attenzione che se voi attaccate da distanza ad esempio con l'arco o con una balestra quando attaccate da distanza un avversario prono avete sempre svantaggio tiro per colpire quindi non è un furtivo quindi se i vostri alleati buttano a terra gli avversari che vogliono friggere che vogliono fare secchi e dovete per forza se volete fare il furtivo andare in corpo a corpo quindi avvicinarvi alla creatura che volete colpire alcune sottoclassi del ladro potenziano il furtivo o vi danno la possibilità comunque di combattere meglio per effettuare dei furtivi o a tante altre cose però poi li affrontiamo magari vediamo quali vale la pena citare l'attacco furtivo ai bassi livelli non fa tanto danno ma man mano che crescete nel livello di ladro progredite nella classe del ladro l'attacco furtivo anche se può essere fatto solo una volta per turno diventa particolarmente determinante è incredibile ad esempio quando cominciate a tirare quel sacco di dadi da sei magari quando passate il decimo livello cominciate ad avere 6 7 8 9 addirittura 10 dadi da sei aggiuntivi al dado dell'arma ecco che se voi attaccate con un piccolo pugnalino o anche con una frusta non è così determinante che usate solo un dado da quattro anzi quindi non è non fossilizzatevi non fate in modo di attaccare di usare solo lo stocco salendo di livello il ladro diventa temibile con qualsiasi arma proprio a causa dell'attacco furtivo e naturalmente il sistema migliore per sfruttarlo è proprio quello di avere vantaggio perché avendo vantaggio inoltre avete maggiori probabilità di effettuare dei colpi critici e il colpo critico con un attacco furtivo raddoppia tutti i dadi compresi quelli dell'attacco furtivo provate voi ad immaginare ad esempio un ladro di ventesimo livello che effettua un attacco critico tira 20 dadi da sei aggiuntivo aggiuntivi scusate rispetto ai dadi dell'arma che anche quelli vengono raddoppiati quindi il ladro è particolarmente efficace quando fa di colpi critici ed anche normalmente diciamo che avere un ladro in gruppo ti dà una certa sicurezza però quindi torniamo a bomba su quello che volevo dirvi con questo spezzone il ladro deve fare in modo allora se è possibile di sfruttare le condizioni e dovrebbe chiedere anche ai suoi alleati di sfruttare le condizioni di fare in modo di imporre agli avversari delle condizioni che mettono il ladro nella possibilità di attaccare con vantaggio ed effettuare dei critici efficaci allora andiamo a vedere quali sono le condizioni che potrebbero essere utili le condizioni sono quelle che trovate nell'appendice a fine del manuale del giocatore le trovate a pagina 290 allora vediamo un po qua mi sono preso degli appunti allora ad esempio se il nemico è accecato se il nemico è accecato potete attaccarlo con vantaggio sia a distanza che in mischia va bene quindi a distanza ad esempio potete attaccarlo o con il pugnale da lancio con il pugnale se non siete troppo lontani oppure con qualsiasi arma da distanza escluso la rete mi raccomando va bene in mischia invece se è accecato potete proprio dargli sotto con le armi accurate a vostra disposizione da mischia oppure se il nemico è paralizzato potete attaccarlo con vantaggio sia a distanza che in mischia se il nemico è pietrificato ah scusate su paralizzato dimenticavo inoltre se il nemico è paralizzato ogni volta che lo colpite il tiro è anche un critico quindi è un furtivo ma è anche un critico avete presente il classico blocca persone ecco il classico blocca persone se il vostro chierico il vostro mago adesso non so chi lo possa memorizzare non vado a memoria penso che anche i maghi dovrebbero avere blocca persone e se è lanciato su una creatura umanoide la paralizza quindi voi ladri l'attaccate con vantaggio e a prescindere che fate o meno 20 naturale il vostro attacco furtivo diventa un critico quindi tirate il doppio di dadi una cosa devastante blocca mostri naturalmente ai maghi usatelo ad alto livello anche se consuma uno slot bello grosso però vi dà un grandissimo vantaggio se con voi avete un bel ladro che ha possibilità di attaccare quel mostro pietrificato ora se il nemico è pietrificato potete attaccarlo con vantaggio sia a distanza che in mischia privo di sensi ecco cosa capita quando una creatura è priva di sensi tipo effettuato da sonno cade a terra prona e quindi qui potete attaccarlo con vantaggio sull'immischia perché la creatura è a terra prona va bene se voi attaccate a distanza attaccate con svantaggio anche se foste nascosti anche se foste invisibili va bene quindi vi conviene andare direttamente in mischia prono appena detto perché conseguenza dell'essere privo di sensi quindi dovete attaccarlo in mischia per avere vantaggio poi stordito se un nemico è stordito potete attaccarlo con vantaggio sia a distanza che in mischia trattenuto se il nemico è trattenuto lo potete attaccare con vantaggio sia a distanza che in mischia va bene inoltre c'è anche una condizione che vi permette di attaccare con vantaggio e questa condizione naturalmente è quella che avete quando siete ad esempio invisibile va bene quindi se il mago lancia su di voi invisibilità l'incantesimo di secondo livello il primo attacco che fate prima di perdere l'invisibilità è con vantaggio e potrebbe diventare un furtivo naturalmente se usate invisibilità superiore sul ladro il ladro ogni turno praticamente ha la possibilità di attaccare con vantaggio in quanto non perde l'invisibilità questo per quanto riguarda le condizioni poi ad esempio un altro sistema che ha il ladro per ottenere vantaggio è se un alleato lo aiuta d'accordo quindi andatevi a ripassare l'azione di aiuto che dà la possibilità a chi esercita l'azione di aiuto di concedere vantaggio ad un solo tiro per colpire a voi ve ne basta uno per fare il furtivo ad un suo alleato per attaccare un nemico nel senso crea una sorta di distrazione va bene questa azione di aiuto può essere fatta dal famiglio può essere fatta da un compagno animale ad esempio se avete tutti quanti alleati che compiono tanti attacchi e non vogliono rinunciare i loro attacchi per questo tipo di azione magari chiamate chiedete al che ne so al vostro famiglio al vostro al famiglio del vostro mago magari un bel gufo che ha anche la capacità di volo sfuggente così va giù in picchiata e poi se ne va senza senza dare attacco di opportunità magari di concedere di aiuto ed ora parliamo brevemente del nascondersi poi forse farò un video dedicato a questo per cui non voglio affrontarlo troppo qui comunque dal secondo livello il ladro ottiene l'azione scaltra l'azione scaltra gli permette di usare l'azione bonus per compiere delle cose una di queste cose è ad esempio nascondersi un guerriero ranger normale cosa dovrebbe fare per nascondersi dovrebbe cercare un riparo e consumare la sua azione per nascondersi quindi in quel turno si muove cerca un riparo si nasconde non fa nient'altro un ladro di primo livello se vuole nascondersi fa esattamente così ma dal secondo livello il ladro può usare l'azione scaltra quindi può usare l'azione bonus per nascondersi quindi usa il suo movimento per raggiungere un riparo usa l'azione bonus per nascondersi e a questo quindi effetto un tiro di furtività si vuole nascondere naturalmente rispetto a qualcuno quindi deve essere dietro un riparo che rispetto a qualcuno se il mio nemico è qui e io mi metto qui in mezzo ci deve essere un riparo naturalmente non posso stare dalla stessa parte d'accordo del riparo che si trova anche il nemico questa è una cosa elementare penso che sia capibile da tutti così come se io sono dietro un riparo e il nemico fa il giro in automaticamente non sono nascosto non è che perché magari ho fatto 30 in nascondermi continuo ad essere nascosto anche se il nemico aggira attorno all'ostacolo in ogni caso il ladro nel suo turno si muove va dietro il riparo effetto all'azione di furtività di nascondersi effettuando un check di furtività quindi mi raccomando il vostro ladro deve naturalmente effettuare deve possibilmente dovrebbe avere la furtività alta o comunque la competenza in furtività a questo punto qua siccome siamo in combattimento e si confronta il master confronta la vostra prova di furtività con la percezione passiva dell'avversario va bene attenzione perché la percezione passiva dell'avversario allora se l'avversario vuole cercare e fare un check di percezione deve usare la sua azione quindi si usa la sua azione rimane senza la possibilità di fare gli attacchi è un'azione cercare qualcuno va bene con la percezione per cercare un nemico individuarlo è un'azione ricordatevi sta cosa quindi se il nemico non vuole perdere la sua azione per cercare dove è nascosto il ladro si fa semplicemente un check contrapposto va bene quindi comunque è il turno del ladro il nemico non può usare la sua azione di reazione per cercare il ladro a meno che non abbia fatto un'azione preparata quindi il ladro si nasconde supponiamo che il nemico ha la percezione passiva 12 il ladro fa 14 quindi il ladro è uscito a nascondersi oppure se il ladro avesse fatto 9 con furtività non si sarebbe nascosto allora una volta che il ladro è nascosto può attaccare con vantaggio con naturalmente con un'arma a distanza d'accordo perché se il ladro invece sceglie di uscire dal riparo dopo essersi nascosto per attaccare con un'arma da mischia e beh praticamente ha vanificato l'azione di nascondersi questa qui è un'operazione che non serve assolutamente niente se si mette dietro un riparo dovrà usare un attacco a distanza ad esempio con l'arco la balestra balestra a mano cerbottana e quello che è attacca con vantaggio e naturalmente se colpisce l'attacco è un attacco furtivo questa dovrebbe essere un'azione base che ogni ladro impara dopo un po' diventa un po' ripetitiva nel senso che che cosa fa il ladro cerca un nascondiglio se disponibile una volta cercato un nascondiglio mi nascondo e attacco poi una volta che hai attaccato il nemico è consapevole della tua presenza lì ti ha visto non sei più nascosto e per nasconderti devi cambiare nascondiglio quindi devi cercare un altro posto lì vicino dove poterti nascondere non puoi rimanere semplicemente nel posto dove sei vi sono alcune creature come gli elfling piedelesti che hanno la possibilità anche di nascondersi dietro gli alleati di taglia media e questa naturalmente è una cosa molto utile perché in un dungeon in uno stanzone in cui magari non ci sono elementi d'arredo o il master pigro magari non ha messo tanti effetti rocce e altre cose di cui nascondersi un elfling piedelestero potrebbe in effetti sfruttare il corpo di propri alleati per nascondersi un elfling piedelestero ad esempio potrebbe attaccare nascosto da dietro i suoi alleati anche con una frusta per cui non serve essere a 9 metri di distanza 18 metri di distanza per sparare con l'arco capito con una balestra basterebbe stare anche a 3 metri quindi perché la frusta a portata è 3 metri potrebbe stare anche dietro un alleato e a effettuarli attacchi forti con la frusta questo qua potrebbe rendere anche la cosa un po più dinamica e divertente va bene insomma cercate anche voi di magari di sbizzarrirvi e trovare anche un modo differente di attaccare con il lato tanto perché non sia il solito ladro insomma da stocco e arco corto o arco lungo a seconda della sua taglia va bene allora sul manuale di tascia è stata introdotto un privilegio di classe per il ladro che si chiama mira stabile che cosa fa praticamente una regola opzionale a me non piace molto anche se capisco praticamente che potrebbe essere interessante secondo me è proprio per un ladro pigro questo qua nel senso il giocatore può reto non gariva il giocatore non sa crearsi delle situazioni per mettersi in vantaggio è un po stressato poverino loro probabilmente hanno inventato sta caratteristica opzionale d'accordo quindi per poterla utilizzare dovete chiedere al vostro dungeon master la possibilità di utilizzarla allora che cosa fa praticamente se nel vostro turno non vi muovete quindi rinunciate in un certo senso 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 all'azione di movimento ed inoltre sacrificate l'azione bonus potete ottenete vantaggio il prossimo tiro per colpire va bene quindi anche senza nascondervi perché magari sempre quella mossa che fate anche senza altre possibilità e condizioni particolari imposte dei vostri alleati voi potete ottenere vantaggio quel tiro per colpire sacrificando il movimento e anche l'azione bonus di fatto va bene si chiama mira stabile cercatelo su tascia in inglese in inglese si chiama stidi stidi aim aim non lo so non so come si pronuncia allora talenti utili per attaccare fortivamente allora detto che il ladro probabilmente diciamo che con di buoni alleati e grazie alla capacità magari di nascondersi riesce comunque a crearsi delle situazioni per attaccare con vantaggio ecco qui una piccola lista di talenti e vabbè li ho un po cercati però non sono un granché insomma io io comunque ve li dico allora ad esempio adepto marziale adepto marziale un talento che trovate sul manuale del giocatore che vi fa imparare una manovra di battaglia vi dà un dato da 6 per utilizzare questa manovra per me è un talento un po sacrificato un po buttato via diciamo dato da 6 veramente piccolo e potete che cosa al massimo magari il guerriero che ha tanti talenti potrebbe anche usare questo talento per avere una manovra in più che vuole ottenere tutti i costi comunque sia grazie alla manovra attacco confinto attacco sbilanciante può ottenere a vantaggio sul prossimo tiro per colpire però lo farebbe solo una volta poi basta quindi insomma è un talentino poi oppure combattere in sella si combattere in sella potrebbe essere utile e bene soprattutto fuori da un dungeon perché perché all'interno di dungeon muoversi magari con un cavallo sempre che non siate una creatura piccolina e si muove al cavallo di una creatura media magari o magari nel vostro druido che si è trasformato che ne so in un mulo va bene vi muovete e voi sapete che quando siete in sella dispone vantaggio ai tiri per colpire in mischia contro qualsiasi creatura che non sia a sua volta in sella e sia più piccola della sua cavalcatura se diciamo che se siete creature piccole in sella una creatura media avreste vantaggio solo contro le creature piccole se siete invece creature medie in sella la vostro cavallo che è una creatura grande ottenete vantaggio con i tiri per colpire contro le creature medie o piccole diciamo sì insomma se avete che ne so un'ambientazione in cui vi muovete spesso a cavallo i signori di cavalli che ne so di rohan oppure che ne so giocate alla vecchia mistara che c'era etengar il canato di etengar se non sbaglio potrebbe essere interessante altrimenti insomma combattere in sella non è un talento tanto sfruttato oppure lottatore ecco se siete competenti in atletica e atletica sfrutta la forza però se siete un ladro a base forza è un conto ma se siete in base a destrezza non farete tanto comunque con lottatore quando vuoi afferrato una creatura con una mano d'accordo quella che è contro quella creatura i vostri attacchi hanno vantaggio quindi con l'altra mano dovete avere tipo lo stocco il pugnale corto tac 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 fate un solo attacco e quell'attacco furtivo insomma questo potrebbe essere interessante se avete un ladro in base forza oppure scomparire è un talento razziale dell'ognomo una volta per riposo breve diventate invisibili come reazione ad aver subito danni quindi dopo e la fate pagare va bene però una volta per riposo breve vabbè carino insomma se avete uno gnomo ladro oppure shadow touch che adesso non ricordo come si chiami un talento di tascia che vi fa imparare l'incantesimo invisibilità ma se avete il ladro se avete un mago con voi magari sfruttate quello tra le sottoclassi del dell'altro tra le più letali abbiamo tranquillamente l'assassino quello trovate sul manuale del giocatore a pagina 79 se prendete questa sottoclasse vi conviene prendere anche prima o poi il talento allerta perché per voi è importantissimo muovervi per primi e cioè o meglio non muovervi per primi in assoluto ma muovervi prima delle creature nemiche poiché voi ottenete vantaggio durante il primo turno di combattimento contro tutte le creature che non si sono ancora mosse prima di voi va bene quindi attenzione che non è un attacco di sorpresa non confondete sta cosa qua con gli attacchi di sorpresa che è tutto un altro discorso comunque che anzi meglio se fosse un attacco di sorpresa comunque voi ma avete vantaggio contro tutte le creature che non si sono ancora mosse durante il primo round di combattimento e quindi di conseguenza se avete vantaggio sapete che anche fortivo inoltre quando voi attaccate una di queste creature se la colpite anche critico sempre sul manuale del giocatore trovate la classe la sottoclasse del ladro che del forfante un privilegio di diciassettesimo livello quindi hai voglia arrivarci però diciamo se giocate ad alto livello se siete arrivati a quei livelli avete dal diciassettesimo livello riflessi del forfante che cosa vi dà la possibilità vi permette di svolgere due turni durante il primo round se fate due turni attenzione non è che vi dà due azioni da fare durante prima due turni veri e propri quindi supponiamo voi tirate il dado e fate 17 quello di vostro primo turno poi a quel 17 togliete 10 e vi muovete una seconda volta al turno 7 quindi durante il turno che avete fatto 17 se attaccate e se colpite con vantaggio eccetera eccetera quello che è insomma seguite le regole del furtivo potete effettuare un furtivo e poi vi rimuovete nuovamente a round che in questo caso per il mio esempio scelto che sia 7 d'accordo e avete la possibilità di fare un secondo attacco fenomenale anche questo ora invece prendo l'oxanatar ok e andate a pagina 34 e cercate la sottoclasse dell'esploratore a me piace tanto stare sotto classe dell'esploratore e anche qui dovete aspettare il diciassettesimo livello d'accordo e questo vi dice che praticamente al diciassettesimo livello quando tocca a voi ok se il ladro effettua l'azione di attacco nel suo turno può effettuare un attacco aggiuntivo come azione bonus allora in genere noi sappiamo che la regola dice nel tuo turno solo un attacco furtivo al massimo va bene ma qui invece dice questo attacco può beneficiare questo attacco aggiuntivo può beneficiare del suo attacco furtivo quindi un'eccezione alla regola generale va bene quindi anche se l'ha già usato nel suo turno ma il ladro non può usare il suo attacco furtivo contro lo stesso bersaglio quindi diciamo che il ladro lo può fare su bersagli differenti quindi può fare due attacchi furtivi di fatto dal diciassettesimo livello grazie al colpo improvviso ma deve colpire bersagli differenti sempre nell'oxanatar e andiamo a prendere la sottoclasse dell'indagatore a pagina 34 il quale possiede al terzo livello un privilegio che si chiama combattimento intuitivo allora non potenzia il vostro furtivo ma vi permette di fare ciò allora come azione bonus il ladro può effettuare una prova di saggezza intuizione contraposto alla prova di inganno carisma dell'avversario che è contro una creatura che gli sia in grado di vedere che sia successo può usare il suo attacco furtivo contro il bersaglio anche se non dispone di vantaggio al tiro per colpire e l'importante è che non abbia svantaggio contro di esso quindi questo è un modo questo beneficio dura un minuto finché il ladro non usa con successo questo privilegio contro un bersaglio diverso quindi in pratica gli dà la possibilità di averla di attaccare una creatura ad esempio in mischia ma qui non è detto che debba essere in mischia anche senza avere vantaggio va bene quindi è una cosa interessante ed eccoci invece sempre con l'oxanatar a pagina 35 la sottoclasse del spadacino che di fatto è una sottoclasse fatta apposta per permettere al ladro di combattere in mischia l'audacia del fanfarone è un privilegio di terzo livello che dà la possibilità al vostro ladro di attaccare in mischia il suo avversario anche se non è circondato da nemici e di effettuare un attacco furtivo se lo colpisce quindi lui quando combatte contro un avversario in mischia anche se non ci sono alleati nelle vicinanze anche se non ha vantaggio il tiro per colpire quando lo colpisce effettua un furtivo quindi diciamo che lo spadacino ha la possibilità in mischia comunque di attaccare un nemico che sta combattendo contro un alleato e questo è normale ma anche un nemico isolato e di effettuare il furtivo naturalmente questo privilegio non dà vantaggio sul manuale del giocatore avete il ladro il ladro mago che si chiama mistificatore arcano e questo ladro al tredicesimo livello ottiene un privilegio che si chiama ingannatore versatile praticamente lui usa la mano magica ed usa la sua azione bonus per distrarre l'avversario ed avere vantaggio contro l'avversario naturalmente se ha vantaggio contro l'avversario se lo colpisce è furtivo l'ultima sottoclasse che vi consiglio è quella del phantom e la trovate sul manuale di tascia adesso non ce l'ho qui sotto in italiano ce l'ho solo in inglese quindi non so dirvi come è stato tradotto in italiano sul phantom comunque grazie a whales from the grave che deve essere una cosa tipo gemiti dalla tomba quando il ladro colpisce con un furtivo quindi in questo caso qua non potenzia prima per avere vantaggio o altre cose ma dopo che avete colpito e fate un furtivo fate danni anche i nemici vicini una piccola cosa allora oggi non aggiungo altra carne al fuoco poiché farò un video dedicato al combattimento con ladro più approfondito spero intanto di avervi chiarito alcuni dubbi fate attenzione in corti circuiti e volte che si fanno quando si pensa all'attacco furtivo soprattutto sull'assassino che ne ho sentiti di belle in giro ma non solo anche insomma il fatto che vi abbia detto che voi potete fare un attacco furtivo a turno e quindi ad esempio che anche il vostro attacco di opportunità può diventare attenzione può diventare una possibilità può diventare un attacco furtivo non significa che quando date un attacco opportunità a un ladro questo automaticamente fa un attacco furtivo va bene io non vi ho detto questo mi raccomando va bene allora spero che le informazioni che vi ho dato le abbiate trovate interessanti che grazie a queste informazioni possiate eventualmente giocare meglio il vostro ladro in ogni caso ci sarà un video dedicato sul combattimento con il ladro e niente visto l'ora tarda ragazzi intanto vi saluto buon gioco a tutti ciao ciao ciao